Tutti indenni, fra assoluzioni nel merito e prescrizione. I giudici hanno escluso diverse responsabilità al processo scaturito dall'inchiesta denominata Giochi di Potere, che ha passato a setaccio politica e imprenditoria Racalmuto dal 2006 in poi. La sentenza per i 15 imputati che erano rimasti è stata emessa ieri pomeriggio dai giudici della seconda sezione penale preseduta da Luisa Turco. Lo stesso pubblico ministero, Brunella Sardoni, all'udienza precedente della quale avevano concluso anche tutti i difensori, aveva chiesto due sole condanne. Per l'ex dirigente dell'UTC, Ignazio Romano, e per il progettista e direttore dei lavori, Edoardo Chiarelli. Il fulcro dell'inchiesta riguarda la realizzazione di alcune strutture ricettive. Nella lista altri 13 imputati sono gli imprenditori Calogero Cacciato, Adamo Chiarelli, Luigi Martorelli, Sergio Borsellino, Andrea Borsellino e Calogero Asena, gli ex dirigenti dell'UTC Calogero Chiarelli e Domenico Graci, l'ex sindaco di Racalmuto Salvatore Petrotto, l'avvocato Calogero Mattina, suo ex consigliere giuridico, i progettisti Paolo Loiacono e Carmelo Santa Lucia e il tecnico dell'UTC Diego Salvo. Il PM Lucia Brescia, titolare dell'inchiesta prima del trasferimento alla procura generale di Caltanissetta, ipotizzava irregolarità edilizie e autorizzative per la costruzione di alberghi, truffe per ottenere contributi dall'assessorato regionale e nomine illegittime di dirigenti esterni. I reati ipotizzati erano quelli di costruzione abusiva, truffa, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio e distruzione di atti pubblici. Il principale filone dell'indagine riguardava la realizzazione delle strutture Mezzaluna, AMBRA SAS e Regalpetra. La procura contestava anche l'erogazione di finanziamenti regionali illegittimi e la falsificazione di alcuni documenti finalizzati all'erogazione dei benefici. Un altro filone riguardava poi il comune di Racalmuto. A Petrotte mattina era contestato l'abuso d'ufficio per avere nominato Graci dirigente esterno a contratto in maniera illegittima. In questo caso i giudici non sono neppure entrati nel merito delle accuse dichiarando la prescrizione. L'ex sindaco di Racalmuto, Salvatore Petrotto, assolto nell'ambito dell'inchiesta Giochi di Potere, commenta, per la verità leggendo le carte lo si era capito sin dall'inizio, che si trattava soltanto di un'inchiesta avventata, senza né capo né coda, messa in piedi per dimostrare che a Racalmuto c'era una sorta d'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una caterva di reati, che alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inesistenti. Addirittura anche gli stessi investigatori e tecnici che hanno denunciato i presunti abusi sottoposti al vaglio delle autorità giudiziarie hanno dovuto ammettere nel corso di alcune pubbliche udienze che forse si erano sbagliati nella valutazione di quanto verbalizzato in sede di indagini preliminari. Adesso tutti quanti si chiedono chi pagherà i danni, anche economici, sociali ed occupazionali, oltre che ovviamente quelli morali. Dal 2010 nessuno se l'è sentita più di intraprendere altre attività in un paese bersagliato per giunta due anni dopo da un altro ingiusto provvedimento, quello relativo allo scioglimento del Consiglio Comunale per delle inesistenti infiltrazioni mafiose. Ora, e soltanto ora, in teoria, quei tre alberghi, e uno per la verità è già aperto da un anno, potrebbero mettere mano al completamento dei lavori di ristrutturazione di quegli immobili che il cosiddetto braccio armato della legge inopinatamente aveva bloccato. Staremo a vedere, conclude Petrotto. Grazie a tutti.